Buonasera a tutti gli ascoltatori di People at Motoday, benvenuti qui in fiera. Sono Raffaella Modullo e sono la mascotte della fiera, come potete vedere dai manifesti, che ha dato a pezzo di tutta Roma. Sono qui, faccio le foto con tutti quanti voi, vi aspetto sul parco di Gallagher per il padiglione del 5.